Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Firenze Ovest e Firenze Peretola. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili, in direzione Mare, per traffico intenso, code in uscita all'Astra, rallentamenti tra Firenze Scandici e Lastra. La viabilità cittadina a Firenze in Viale Giovine Italia, restringimento di carreggiata per anomalia stradale. Chiudiamo con i treni, resta sospesa la circolazione sulla linea Firenze Bologna e sulla linea Firenze Viareggio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.